Allora, buongiorno a tutti intanto. Mi chiamo Filippo Matteo Riggio, sono di Verona, sono un programmatore web e mobile, quindi di elettronica, io non ne so, una fava. Vengo da Intesis, sono un'azienda al veronese che tratta appunto di web, enterprise e altro e oggi vi parlerò di Arduino. Intanto, Arduino, qualcuno sa che cos'è? Ok, vi parlerò perché ho scelto di Arduino, di parlare di Arduino e l'evoluzione che Arduino ha avuto e la piccola rivoluzione che ha portato. Ok, intanto si parla di esigenze, secondo me un problema nasce sempre da un'esigenza e le idee che lo risolvono molto spesso sono geniali. La mia esigenza è perché ho scelto Arduino, siamo quasi tutti programmatori, immagino, ma al di fuori da qua nessuno sa quello che facciamo. Molto spesso capita, è successo, il papà di un mio amico mi chiama, al telefono mi fa, avrei il televisore rotto, me lo puoi riparare? Scusa, sono un programmatore, lui non sa cosa significa, ha gente che mi chiede di riparare il tostapane, cioè ragazzi facciamo codice noi. Quindi il problema è questo, al di fuori dal settore T, tra di noi, nessuno sa molto spesso cosa facciamo. Poi c'è un altro problema che secondo me è molto brutto del nostro lavoro, non facciamo mai qualcosa di tangibile, che la gente possa andare fuori a vedere e dire, questo qua l'ha fatto Tizio Caio Sempronio. Quindi non creiamo mai qualcosa di tangibile e materiale, ma creiamo sempre cose molto virtuali. Quindi la mia esigenza, il mio bisogno era di dare un'importanza al mio lavoro, quindi creare qualcosa di materiale, programmabile, che io possa portare in giro e dire, questo qua l'ho fatto io. Arduino dà questa possibilità, un programmatore può creare dispositivi e programmarli. L'esigenza dell'ingegner Massimo Banzi. Intanto è un genio, è un ingegnere di Vrea che insegnava l'Interaction Design Institute di Vrea appunto. In questo istituto sono quasi tutti designer che creano prototipi interattivi di elettronica. Lui aveva un problema anche lui. Intanto questi designer di elettronica non ne sapevano assolutamente niente, tanto meno di informatica. Utilizzavano per i prototipi che facevano una scheda americana che è Basic Stamp che aveva due difetti principali. Primo intanto costava tanto e loro dovevano fare molti prototipi durante l'anno. Si parla di circa 80 euro. E funzionava solo con PC Windows. Purtroppo designer vuol dire anche Mac molto spesso. Che cos'è Arduino? Beh, Arduino è una scheda elettronica. Grande come una carta di credito più o meno. E programmabile tramite un suo sviluppo, un suo ambiente di sviluppo e un cavo USB. Ogni software che si fa è uno, si chiama Sketch e viene caricato tramite questo l'IDE e il cavo USB sulla scheda. È completamente open source. Adesso vi introduco un po' di storia da dove è nato e come si sta evolvendo. Intanto iniziamo con Olivetti e Telecom 2001. Avviano questo istituto ad Ivrea, appunto dove i designer devono fare questi prototipi. Vabbè, primo semestre del 2002 Banzi crea il primo prototipo che è il programma 2003. Lo chiamo così in onore di Programma 101 che era il primo computer dell'Olivetti. Utilizza un linguaggio già che è poco user friendly. Quindi i designer che iniziavano a programmare facevano molta fatica ad apprendere questo linguaggio. Intanto incontra altri due docenti di università straniere. Soprattutto è importante il secondo che in America utilizza Processing per la sua scuola di design e gli dice appunto adotta Processing perché secondo me è un buon linguaggio. Quindi Barragan, studente sempre dell'IDE, crea wiring che deriva da Processing da C, ma la scheda programma 2003 costa ancora parecchio. Siamo ai livelli di Basic Stamp. Intanto iniziano anche comunque i primi test su gli studenti dell'IDE e i risultati sono molto molto buoni. La svolta arriva dal primo da gennaio a maggio del 2005. Intanto entra nel team Quartieles e Mellis. Il primo si occuperà dell'hardware e il secondo della parte software. Avanzi durante le varie discussioni balza in mente l'idea di far costare Arduino circa 20 euro, costo medio di una cena di Vrea. Intanto i due si autofinanziano, si autofinanziano i primi 600 modelli e l'azienda a cui dovevano mandare i progetti vuole un nome per questa scheda da mettere dietro. Banzi intanto decine in via provvisore di dare il nome di Arduino, che era il nome del bar dove il team andava a fare gli aperitivi dopo che lavorava. Quindi è nato tutto quanto da una serie di spritz. Giugno 2006, Tommy Goh porta Arduino negli States, adesso Massimo si trova proprio lì, proprio con Tommy Goh che stanno diffondendo ancora il verbo. Primo workshop a Londra, nasce la community, primi 25 persone, molto scettici, tutti quanti, perché era una tecnologia molto giovane, tutti quanti erano molto dubbiosi. Siamo arrivati al 2008, intanto già 50.000 coppie di Arduino sono in circolazione. Adesso vi farò vedere un attimo la parte tecnica di Arduino, andiamo un po' più in profondità su come è fatta, sulle caratteristiche tecniche. Intanto, microcontrollore, a Tmega 16 MHz, delle versioni più piccole l'hanno anche a 8. Viene alimentato tramite due alimentazioni, USB jack a 5V e Power jack a 12V, limitato da questo transistor qua a 5V. Questa qua è la versione 2009 e la 2010, la scelta dell'alimentazione veniva fatta tramite un jumper USB o X. Ha 14 pin digitali, 6 per quanto riguarda alimentazioni, voltaggi e masse e 6 di tipo analogici. Vabbè, bottoncino per il reset e molto importante era questo chip qua, l'FTD chip USB. Praticamente il segnale che entrava dal cavo USB doveva essere convertito in un segnale seriale interpretabile dal controller. Dalla versione Arduino Uno è sparito perché viene integrato all'interno del controller. Ok. Arduino. Ovviamente il tempo porta sempre migliorie, sempre bug fix e siamo arrivati a varie versioni. Questa qua è più o meno la definitiva che abbiamo adesso. La versione per vestiti, quindi tu puoi andare a cucire Arduino su un vestito. La versione un po' più potente con molti più ingressi. La mini e la nano che sono quelle più piccole. E poi abbiamo delle versioni con più features. Ad esempio la FIO che è quella con la connessione wireless, la Ethernet e la versione Bluetooth. Bluetooth. Oltre ai modelli esistono anche delle estensioni. Sono dei plug-in, si chiamano shield e praticamente sulle versioni di base non abbiamo bisogno di magari altre proprietà, per esempio la connessione Ethernet o la connessione wireless. Queste schede che vanno a sovrapporsi, quindi a creare più livelli, quindi tu puoi trovare anche un bel blocco di livelli con varie proprietà, si vanno a mettere una sopra l'altro e forniscono delle proprietà aggiuntive ad Arduino. Per ogni scheda ovviamente esistono poi le librerie adatte che ti permettono di andare a lavorare. Senz'altro quella più utilizzata è questa qua, quella su cui si creano i propri circuiti e dopo vengono montati sopra Arduino. Il vero punto di forza di Arduino, quello che praticamente mi ha detto, oh cacchio sono un programmatore e riesco a fare comunque elettronica. Intanto, sensori ad attuatori. Non sapevo niente di come funzionava un sensore, ma la definizione che dà Wikipedia è, misurano grandezze naturali e le trasformano in segnale elettrico. Ovviamente le nostre sono interpretabili da Arduino. Esistono tre tipi di sensori, sono digitali, analogici e complessi. I complessi sono per esempio i sensori GPS che ti danno molte più informazioni. Quindi variano le versioni semplici, sono molto facili da andare a utilizzare perché variano le proprietà elettriche in base alla grandezza naturale da cui vengono investite. La fotoresistenza ti aumenta o diminuisce la resistenza in base alla luce. Sensore temperatura ti dà una tensione variabile dal pin centrale in base alla temperatura dell'ambiente. Oltre ai sensori abbiamo gli attuatori. Prendono un segnale elettrico e lo trasformano in un fenomeno fisico. LED, servomotori, motori elettrici, insomma, molte molte cose. L'ambiente di sviluppo, anche questo, viene ereditato completamente da Processing. Infatti io non so se qualcuno di voi ha visto Processing è praticamente un Ctrl-C, Ctrl-V. Vabbè, disponibile per macOS, Windows e Linux. Sul sito trovate i driver. Purtroppo Windows ci fa smadonnare un po' durante la fase di installazione. Molto importante è la fase di configurazione in cui bisogna andare a inserire la porta e il modello della propria scheda. Noi avevamo due schede in azienda quando abbiamo fatto il nostro progetto, la 2009 e la 1. E non riuscivamo a far andare la 2009 perché non avevamo selezionato il modello corretto. Dopo che si scrive lo sketch, lo stesso IDE crea un eseguibile per il nostro processore che c'è montato sulla scheda ed esegue l'upload. Utilissimo è questo strumentino qui, che è un serial monitor e legge praticamente lo stream dalla porta. Si può fare questa operazione anche tramite un software quale Putty se qualcuno lo utilizza. altro strumento molto molto utile è fritzing. Quanti di voi lo usano? 3, 4, pochi. Praticamente nasce con la stessa filosofia di Arduino. Quindi open, dare la possibilità a chi non è del settore di andare a far progetti di elettronica eccetera. Molto molto facile da utilizzare quindi noi abbiamo i nostri bellissimi componenti sulla destra, li trasciniamo, possiamo tirare i cavi e praticamente, ovviamente nato per quelli che non sono ingegneri che utilizzano ovviamente AutoCAD per fare i propri prototipi. La cosa molto interessante è che direttamente ci genera, oltre allo schema elettrico, anche il circuito stampato. Quindi noi dopo possiamo direttamente modellare il nostro circuito stampato e ci viene fuori proprio il bottoncino acquista su fritzing. Quindi direttamente noi mandiamo il progetto a fritzing, loro ci mandano a casa il pacchetto con il circuito stampato. Comodissimo. Adesso vediamo un pochino di codice. Anche qua, semplicità. Due sole funzioni. Setup e loop. Setup ci dice, sono tutte le operazioni preliminari, quindi di avvio della scheda, che viene fatto solo la prima volta e poi abbiamo un loop. Il loop è praticamente ad ogni ciclo di clock del processore, viene fatto le operazioni che sono qua dentro. Molto molto semplice, anche vediamo le istruzioni, per esempio noi decidiamo che il pin 13 deve essere messo in modalità output e dopo noi riusciamo a scrivere accendilo, spegnilo. Quindi veramente semplice. Un altro semplice esempio che io ho portato in azienda per far vedere la semplicità di quanto è veramente disarmante Arduino. Allora, display LCD. Display con driver, i touch HD44 780, un potenziometro, questo qua ci serve per regolare il contrasto dei caratteri, breadboard e cavetti se li abbiamo. Beh, intanto, piccola parentesi sull'LCD. Hai dotato di un microcontrollore interno e di una sua memoria interna. Praticamente per ogni carattere è associata a una matrice di 5x8 pixel, quindi noi ad ogni carattere è associato un numero, un intero, che noi passiamo tramite Arduino. Lui associa poi al numero una serie di caratteri che è una matrice di 5x8 che disegna sul display. Poi ovviamente è dotato di altri registri per la gestione di istruzioni in coda, lettura, scrittura, quindi tutte quelle operazioni che servono per andare a gestirlo. Ma noi abbiamo direttamente la libreria, di questo ce ne sbattiamo altrimenti. Quindi, la versione codice. Includiamo la libreria, istanziamo l'oggetto LCD con i pin che ci servono, quindi il registro, contrasto, questo e quell'altro. Inizializziamo nella fase di setup, quindi, 16 caratteri per due righe e scriviamo la stringa. Quindi lui sulla prima riga mi scrive low world. Nel ciclo di loop poniamo il cursore al carattere 0 riga 1 e stampiamo il numero di millisecondi da che è iniziato il ciclo. Altre funzioni? Beh, abbiamo già visto pin mode, serial begin che è per inizializzare uno stream sulla porta seriale, lettura dei pin digitali, quindi impostiamo il nostro pin e lui ci dà due valori che sono high o low, lettura della porta analogica, analog read e il pin e lui ci ritorna un intero tra 0 e 1023. Stessa cosa, beh, per il digital writer abbiamo visto prima, print line scrive sullo stream e la funzione millis è praticamente quello che è il numero di millisecondi all'inizio dell'esecuzione. Questo valore dura fino a 50 giorni, quindi bisogna andare dopo quando si va a fare la parte di codice anche a gestire il caso che il valore dei millisecondi è raggiunto i 50 giorni. Progetto? Intanto, Intesis, vabbè, Core Business è web, enterprise e networking. Elettronica non la facciamo noi. È nata però l'anno scorso un'iniziativa molto interessante, i talk. Noi presi da mania di conferenza interna abbiamo sviluppato questa iniziativa, praticamente permette a tutti i colleghi che abbiamo noi di condividere le informazioni. Per esempio ci sono quelli che hanno più skill sul front end, su javascript e questo, che condividono con chi fa enterprise, chi fa networking, altre informazioni. Quindi è molto, molto comodo quando ti devi formare. Non ci sono solo talk di tipo IT, ma ci sono talk anche a livello umanistico, di gestione dello stress. Insomma, è molto ampio il concetto di talk all'interno di Intesis. Questi talk poi sono andati ad avere molta risonanza a livello interno nostro. Intanto sono stati adottati strumenti come Git dai talk, ma soprattutto dopo che io ho fatto il talk su Arduino, siamo andati a sviluppare una vera e propria idea. Arduino Meeting Room. Intanto, tutto quanto veniva fatto extralaborativamente, quindi era comunque una sbatta a volte, però abbiamo deciso, beh, dato che ci siamo, facciamo qualcosa da cui possiamo trarre qualche beneficio aziendale. L'idea da cui, allora, il brainstorming è stato veramente allucinante. Le idee sono state molteplici. Praticamente è venuto fuori semaforo per la scalacchiocciola interna, per salire e scendere, il contatore dei caffè, i litri di acqua del water che vengono sprecati. Quindi le idee sono state veramente tantissime. Noi abbiamo preso forse quella che ci sembrava più comoda ed era un dispositivo che ci permetteva di sapere lo stato delle sale riunioni, se erano occupate o libere, perché oltre all'utilizzo di Outlook, che mi sembra abbastanza male, se dovevamo fare una riunione on the fly, dovevamo alzarci dalla postazione, fare un piano, andare nello salone, vedere se era occupato o meno, no, noi abbiamo Arduino che ci ha dato una mano in questo. Quindi, funzionalità che Arduino doveva avere. Percepire la presenza di persone in una stanza. Sensore. Comunicare questo dato agli altri dispositivi, attuatore, segnalare visivamente questo dato, attuatore, e vabbè sull'intervento aziendale dopo abbiamo i nostri bravissimi enterpriser che hanno sviluppato una porta letta apposta che va a leggere questo servizio. Perché va in crash powerpoint nei momenti meno. Scusate ragazzi, si lamentano che non si sono comprati i loro prodotti. Ok, siamo arrivati qui. Allora, schema. Allora, lo schema è molto semplice. Intanto, sensore per segnalare la presenza, microfono. Questa è stata la prima scelta che abbiamo fatto. Microfono a capsula con transistor che amplifica il segnale e lo diamo in pasta da Arduino. Intanto, su internet non c'era nulla di materiale su questo. Avevamo trovato un articolo in spagnolo molto stretto e veramente abbiamo sbattuto pericolo la testa. Avevamo pensato di andare a utilizzare un sensore che era il PIR, che è praticamente un sensore di movimento infrarossi, però il nostro cavolo di salone è largo 10 metri, quindi non si poteva utilizzare. Allora io ho detto, porca miseria, non riusciamo ad utilizzare un microfono? Scriviamo a Banzi. Il signore ingegner Banzi ovviamente, gentilmente ha risposto e fa, guarda, si fa così, così, così. Quindi molto disponibile anche lui a darsi una mano. Quindi la parte del microfono era risolta. Come facciamo a capire intanto in che stanza siamo? Bottoncini, deep switch classico, che ci dice, in base alla combinazione deep switch, su quale stanza siamo. La parte di segnalazione visiva viene fatta tramite dei LED RGB, rosso occupata, verde libera e arancione praticamente o stato di debug o stato sconosciuto. La parte di comunicazione con la rete viene fatta tramite un Ethernet. Come facevamo a inviare i nostri dati agli altri dispositivi della rete? Perché oltre a segnalare sulla nostra internet, noi sui vari dispositivi segnalavamo anche lo stato delle altre stanze. Abbiamo deciso di utilizzare, beh, ovviamente l'Ethernet, ma praticamente noi mandavamo un pacchetto in broadcast sulla rete. Queste sono praticamente le variabili che ci torneranno utili quando dopo vi faccio vedere la parte di codice. Beh, vabbè, ve lo le spiego brevemente. Vabbè, inclusione delle librerie, l'array dei LED, byte meno significato dell'indirizzo IP, buffer di lettura e ricezione dei pacchetti, MAC address IP, IP del broadcast, la porta e praticamente l'istante di ricezione dell'ultimo pacchetto di IP. Intanto setup. Vabbè, inizializziamo tutti i nostri pin, facciamo intanto vedere lo stato in cui siamo, siamo in stato a no, andiamo a leggere in quale stanza siamo, sempre molto semplice tramite il calcolo dei bit. Impostiamo intanto l'ultimo numero dell'IP e del MAC address e inizializziamo le librerie relativamente a Ethernet e UDP. Quindi molto semplice anche questo qua, 10 righe, abbiamo fatto connessione Ethernet e istanziato in tutti quanti i pin. Funzione di loop. Intanto, vabbè, available. Controllo se ci sono pacchetti da leggere in broadcast. Me lo vado a leggere, me lo salvo sulle mie variabili bellissime e lo vado a gestire, quindi vado a salvare sulle mie variabili in che stato sono. Aggiorno lo stato dei LED delle altre stanze, se non si ricevono pacchetti di aggiornamento della rete e aggiorno lo stato della stanza in cui sono. Poi vado a controllare se lo stato della mia stanza è cambiato o è ora di inviare un altro aggiornamento agli altri Arduino e alla rete. Preparo un pacchetto, preparo il mio messaggio, quindi numero della stanza più stato della stanza, lo converto in un array di char e faccio la funzione send packet che manda il messaggio all'IP alla porta. Molto semplice mi sembra. Allora, qua una serie di altri progetti che io ho visto in giro, che ho trovato per la rete, che secondo me sono molto interessanti. Pianoforte ad acqua. Questo qua l'ha sviluppato Banzi stesso. Controller per barche da aerei fatto con Arduino. Droni aerei, sismografi, rilevatore di gas, Gameboy, insomma. Di tutto e di più. Veramente io ho visto un'arpa laser in cui tu praticamente muovevi le dita sui raggi laser che venivano fuori e tu praticamente riproducevi del suono. Quindi i progetti veramente ne sono nati tantissimi e diversissimi. Ovviamente Arduino segue anche le tendenze del mondo, del trend, quindi si è spostato verso il mondo mobile. Intanto, maggio 2011 Google rilascia la sua libreria per lo sviluppo di accessori per smartphone con Android. I carissimi Mr. Apple non ci rilasciano le librerie, ne esistono parecchie free. E vengono create anche delle interfacce, per esempio qua vediamo la poggissimo, che ci permettono di interfacciarci comunque con iPhone, iPod e iPad. Quindi le interfacce ormai sono tantissime. Online sui siti di vendita di componenti elettronici ne esistono ormai un sacco. Cosa ha fatto questo movimento verso il mobile? Ha fatto sì che gli sviluppatori si divertissero con la domotica. Impianti di climatizzazione, apertura del garage, risparmio energetico. Abbiamo in azienda uno che si è fatto praticamente il controller dei pannelli solari con Arduino. Quindi lui sul suo smartphone si vede lo stato di quanti kilowatt risparmiato, quanto sta guadagnando tramite lo smartphone. Molto interessante secondo me è già Arduino, sempre sviluppato da Mr. Banzi. È intanto un dispositivo che va connesso con il nostro bellissimo tubo dell'acqua e una valvola elettrica. Ha una scheda Ethernet montata sopra. praticamente sensori di umidità, temperatura e luminosità li abbiamo visti prima, sono molto semplici da andare a leggere. Con la valvola elettrica andiamo a gestire l'impianto di irrigazione e praticamente lo stesso Banzi ci ha fornito anche il servizio online che tramite codice unifico ci permette di connetterci con il nostro smartphone o tablet e vedere in qualsiasi punto del mondo dove siamo lo stato del nostro giardino. Tutto quanto reperibile su GitHub. Conclusioni. Come abbiamo visto Arduino è veramente facile da andare a programmare, da andare a sviluppare, con cui si possono sviluppare veramente progetti. È un ponte senz'altro tra elettronici, informatici e soprattutto viene fatto questo tramite la semplicità e una curva di apprendimento molto molto alta. È una pietra miliare in quello che è il movimento dei makers. Lo stesso Banzi mi sembra che ieri sara scritto un Twitter del tipo l'anno scorso non c'era neanche un makers, adesso sono tutti quanti makers, direttamente dal salone in America. Ha aperto un mondo che era quello elettronico a quelli che sono informatici, quindi noi riusciamo comunque a sviluppare progetti che prima non pensavamo fare. Una cosa molto bella è stata senz'altro, siamo passati dal software open source all'hardware open source, quindi è un'evoluzione anche lì. Consiglio a chi aveva vecchi progetti nel cassetto, chi volesse sviluppare qualcosa che voleva fare ma non riusciva a capire come fare, di ritirarli fuori e magari di andarli a fare. E per il futuro? Gli atomi sono i nuovi bit. Se internet era solo l'inizio perché ha fornito i contenuti, collaborazioni di massa, crowdsourcing, ci ha fornito tutto quel bagaglio di competenze che prima non riuscivamo ad avere perché se guardate bene sono esplosi miliardi di blog tecnici. Le informazioni sono altamente reperibili, noi adesso siamo passati da avere le competenze a poter applicare queste competenze anche a livello tangibile. Molto interessante è MakerBot, praticamente è una stampante 3D basata su Arduino che ci permette di andare a creare piccoli oggetti come vediamo qui molto carini tramite un software quale AutoCAD e dal basso costo costa 700 euro. Quindi siamo passati dal 40.000 per comprare una macchina del genere a 700 euro. Altro progetto molto interessante è Raspberry Pi. Intanto è nato in Inghilterra perché in Inghilterra hanno una crisi di programmatori, dicono. Lo stanno impiegando nelle scuole elementari inglesi per insegnare a programmare Python agli studenti delle scuole elementari. Quindi siamo verso sempre più quello che è un mondo dotato di possibilità di andare a sviluppare progetti che non credevamo possibili. Siamo quella che viene definita l'era del garage 2.0. Milioni di piccoli inventori alla domenica si mettono nel proprio garage, sviluppano delle idee e molte start up ormai sono nate così. In America ovviamente è spopolata, in Italia è un po' più difficile emergere, però veramente da idee nate tramite una scheda elettronica che costa 20 euro ormai c'è della gente che ha fatto una vera e propria azienda e sta iniziando a guadagnare. Quindi stiamo veramente andando a rivoluzionare un po' il futuro anche dell'industria. Un po' di risorse utili, beh, sito di Arduino, il forum e la wiki. Molto interessante il scuolaarduino.cc che offre molti corsi, articoli e tutorial interessanti. Libri, beh, cookbook di Aurili, ho trovato interessante anche questo libro qua di un privato. Riviste, beh, io sono partito da Wired, Wired. Ero seduto sulla tazza, ve lo dico, con la rivista e ho detto, oh cazzo, posso programmare un dispositivo elettronico io che non sono il programmatore della domenica nato dalla bassa veronese, cioè è sorprendente. Quindi veramente io mi sono lanciato tramite Wired. Ho trovato degli utilissimi articoli in mio programma, c'è uno scrittore, un articolista di mio programma, lui è un ingegnere chimico, di elettronica ne sa quanto me. Però veramente molte persone hanno trovato in Arduino una risposta a quello che non riuscivano a fare, al crucio di non essere ingegneri elettronici e non poter fare nulla con dispositivi elettronici. Parte software, beh, abbiamo visto prima fritzing e soprattutto molto interessante da tenere d'occhio, secondo me, miniblock. Praticamente sempre sulla stessa onda di Arduino, fritzing, è nato questo progetto che permette a chi non sa programmare di andare a programmare codici per Arduino visivamente. Quindi tramite i diagrammi a blocchi tu trascini il ciclo, praticamente viene generato in automatico il codice. Puoi andare a creare le condizioni trascinando dei blocchi visivi. Se andate sul blog lo trovate molto interessante. Qualcosina da correggere ancora, secondo me c'è, perché genera delle istruzioni che ogni tanto sono un po' farlocche, però è molto molto interessante perché chi non è programmatore può trovarlo molto utile. Vi ringrazio per l'attenzione e se avete domande sono ben lieto di rispondervi. Grazie. 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 Secondo me, dato che vogliono mantenere il basso costo, non vogliono andare a spendere più di tanto. Se vuoi puoi andare a utilizzare l'Arduino Omega che ha qualcosa di potenza in più, però non è così tanto potente. Cioè proprio il concetto è sempre restare nel basso costo. Però potrebbe essere un'auto un po' rischio. Sì, ma secondo me la sua esigenza era ovviamente permettere a designer di andare a fare prototipi con cui avevi bisogno di poca potenza e molta semplicità. Sì, senza altro, ma infatti secondo me Arduino è solo l'inizio, cioè è una pietra miliare in un movimento che è nato. Lui è contento perché tramite la sua invenzione molte persone stanno facendo altre invenzioni, però senza altro è solo l'inizio. Arduino molto probabilmente verrà abbandonato tra qualche anno, ma in confronto di altre piattaforme che hanno lo stesso concetto di semplicità ma ha molta più potenza. Dipende pur sempre da cosa uno deve sviluppare. Allora, puoi alimentarlo tramite rete elettrica, cavo USB quindi deve essere interfacciato a un PC o anche a batteria. Cioè su scuola Arduino CC trovi lo schema che va creato, serve una batteria da 9 volt, un regolatore di tensione. E quindi tu puoi andare a, c'è un pin che si chiama analogo reference, in cui tu puoi andare a inserire la tua tensione di riferimento, non deve mai superare 5 volt altrimenti si brucia la scheda, che ti permette di alimentare Arduino tramite batteria. Allora, esistono delle piattaforme che ho visto che hanno proprio stile breadboard, tu puoi andare a inserirlo, oppure io preferisco sempre saldarli tramite stagno, è molto semplice. Tre domande? C'è una porta di protezione per il software, lo scherzo? No, la licenza è tutto quanto open source, quindi in teoria potresti andarlo a fare, il codice lo sviluppi tu, quindi puoi andarlo a mettere a protetto, il codice è tuo, però, cioè per esempio il progetto che abbiamo fatto noi è completamente open source, noi l'abbiamo messo su GitHub, dopo se qualcuno vuole do... Non ho visto nulla del genere per ora, cioè girovagando per la rete non ho trovato nulla del genere. Puoi comunque andare a fare un dispositivo che tramite una combinazione di input tu vai a dare una chiave e tu puoi avviare la... cioè è la soluzione per ora più semplice. Sto immaginando per il caso che si mette in un nuovo, ti dicono comunque che il codice mette in personale è il codice? Sì, no, ma penso... cioè non è nato con un'ottica di codice chiuso, è tutto open Arduino. Il tipo di modellazione per la gestione dei ciclini è il tipo? Eh, il ciclone. Modellazione per il ciclone. Lineare oppure? Lineare. Se avete altre domande... A posto. A posto.